Salve cari amici di TC Centro Web TV, online taquinacentese.it, come vedete attorno a me siamo a Casumaro, siamo nella tenso struttura del centro sportivo qui allo stadio comunale di Casumaro, siamo qui per fare un evento molto molto speciale, qui a Casumaro si festeggiano i 50 anni della sagra e della festa, perché mi spiegavano che inizialmente era la saga, poi negli ultimi anni è stata chiamata festa della rumaca, quindi ci saranno delle celebrazioni importanti, si andranno a premiare i volontari che hanno lavorato in questi 40-50 anni di attività qui come saga della rumaca e il Presidente tirerà un po' le somme di questa bellissima manifestazione, chiamando in causa tutti quelli che hanno creato questa bellissima realtà qui nella campagna nel paese Casumaro, che ormai è una cittadina all'interno del comune di Centro. Andiamo quindi ad ascoltare cosa succede in questa bellissima manifestazione. Grazie a tutti. 129 maggio 2024 di Marco Raboni per TC100 Web TV. Festa molto riuscita a giudicare dalle tante persone che hanno partecipato all'incontro con la presenza del Vice Sindaco di Centro Vitto Salatiello, che sentiremo in esclusiva dopo il suo saluto al microfono di Marco Raboni, il Presidente del Casumaro Calcio, Matteo Govoni, figlio del mitico Tonino Govoni, a cui recentemente è stata intitolata la palestra del Centro Sportivo, a cui fa capo la festa della rumaca. Ha salutato tutti gli intervenuti, lasciando poi la parola ad un altro casumarese doc che ha fatto la storia della festa ad Arturo Merighi, il quale ha ripercorso con l'aiuto di foto e filmati il lungo cammino dal 1974 a 2024, con momenti di vera commozione. Poi non perdetevi le nostre esclusive interviste al Vice Sindaco Salatiello, ad Arturo Merighi e al Presidente Govoni, che dà appuntamento ai prossimi avvenimenti che il Casumaro Calcio e la festa della rumaca svolgeranno nei prossimi mesi, prima fra tutti, la saga della rumaca che, come sapete, inizia tra fine luglio e la prima metà di agosto. Quindi anche nell'edizione 2024 più o meno il periodo è quello, ma vi comunicheremo le date in modo più preciso in un prossimo intervento, in un prossimo servizio. a festeggiarli assieme a noi, finalmente è arrivato in questa giornata, perché noi organizzatori lo stavamo preparando e immaginando, c'era già da parecchinesi, e tra le tante le che arrivavamo, non viene uscita questa, è semplice, ma comunque credo che sarà una bella giornata un po' meno intensa, in cui ripercorreremo quindi 50 anni di sangue, con foto, con video di passato, con anche racconti, eh, che hai più sconosciuti o non dimenticati. Inizieremo con una sequenza di foto che ci commenterà a Puglomerini, termineremo con un filmato, non tanto con tanta cura e pazienza dall'amico Andrea Adolfi, che approfitto per ringraziarmi. Niente, 50 anni sono tanti. Tra l'altro le sangue sono ancora di più, perché nel 2009 abbiamo raggiunto l'edizione di ottobre, come tutti sapete, e quindi sono anche, le sagre sono anche molto in più. E niente, per raggiungere un simile traguardo è necessario un lavoro, un lavoro enorme, un lavoro con tanto sacrifici, fatica. Ogni edizione richiede la collaborazione di quasi un centinaio di persone. Anche la loro gestione, il fortemente non è semplice, ma poi i risultati arrivano, arrivano sempre, praticamente sempre ci sono arrivati, e arrivano sempre tante soddisfazioni, tante testimonianze dai nostri ospiti, non solo per la qualità del CIO, ma anche per la nostra organizzazione. E questo, tutto questo poi spazia via tutte le fatiche. A proposito dei volontari, collaboratori, niente, negli anni ne sono passati praticamente migliaia, perché ormai passiamo, parliamo di 50 anni, sia che su maresi, che no. E rimanere ogni anno, ogni anno, che soltanto persone ci dà, ci dubbia d'orgoglio, e ci consente, quindi, di portare avanti questa tradizione. Durante le serate di sangue, solitamente, abbiamo sempre detto allo staff che ci serve, però, se ci fossero persone che ci danno a mano in caso di preparazione, mi confesso che ci sarebbe comodo, e anche durante l'anno, per l'attività calcistica, se c'è qualcuno che ha il piacere di entrare, le porte sono aperte, non fatevi nessun scopolo. L'ambiente è quello di un sistema di calcio, di una salva, finalizzata alla gestione di questo bellissimo centro sportivo, e del calcio stesso, quindi si parla di due attività che contribuiscono a rendere più le parecce, e che permettono a tanti ragazzi di fare sport, di crescere e di socializzare. Detto questo, io passerei a un'altra cura, che se mi vuoi raggiungere, sono convinto ci farà sorridere, ci farà emozionare, raccontando quando e come nacque la nostra storia che è sagra, anzi, come l'amato di lui, il nostro stampo astronomico. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Per noi è... non sono piacere, è piacere, è piacere, scusate, ma non ci ha avuto. Io ringrazio molto, saluto le autorità, purtroppo le autorità militari non mi partono, sono un vicissimico, grazie della sua presenza, e andiamo un po' a vedere. Oggi noi festeggiamo i 50 anni dello stand e lo festeggiamo in un posto a me molto caro, la palestra è intitolata a Torino, che è mio e nostro, di tutti, gradissimo amico, palestra che sorge nel centro sportivo, intitolato Marcello, nostro figlio. Come prima cosa, desidero ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a fare grande questo spesso. Li ringrazio con una frase sempre più virtualità, che ho scritto dieci anni fa, per i 40 anni dello stand e che non ha bisogno di sfiduazione. Un grazie, lungo dalla terra al cielo, a chi con noi ha fatto di un bene una specie tradizione. Parlerò di rendimenti di persone che in più sono sconosciute, ma che bisogna conoscere, sono le nostre ragioni. Ne trascano tanto, non per l'obbligenza, ma perché altrimenti ci vorrebbero, meno scuso più di loro. parlando di stand, non posso non parlare del casomano calcio. Bene, a metà degli anni 60 viene convocata una sceltea con una cantina nei bar per la rifondazione del calcio caffumano, firmato da un fantomatico comitato promotore, una parola che in quel periodo era molto in volo, in pratica per la rifondazione. L'ex sala tv, quelli dell'amilità ce la ricordo, l'ex sala tv della parola, che era crevente e ci ha fatto un successo sperato, costituzione della società, consiglio direttivo, iscrizione alla terza categoria, in brevissimo comune. Da qui, da subito, nacque un grande amore per la società di calcio. Il vecchio Gino Zampieri, ve lo ricordate, il campo va sulla strada, era intitolato Gino Zampieri, c'era una scritta fuori. Il vecchio Gino Zampieri era sempre pieno. Delle partite dei Bocco, poi ce ne parlava, nei bar per tutta la settimana. Questo amore non è mai venuto meno. La dimostrazione è quella quella. La tribuna, la tribuna che vedete, è stata costruita interamente e gratuitamente dai muratori e volontari di Caffanaro. La parola volontario ricorrerà più di una volta questa sera. Non faccio un uomo, ma tutti i giorni, finito il lavoro, ci trovano tutti, dico tutti, qui al campo. Provate a dare una chiacchia, guardate in quanti ce l'avamo. E vi è fatto quello che vuole. come al solito, come al solito però, scelgiamo il microfono. Aiuto. Pronto? Pronto. Ecco, quello è già fatto. Come al solito, però scelgiamo il solito. in quel periodo avevamo la mente sveglia, fresca, e tantissime idee. Io provo a tenere sveglia anche adesso, prendo per il 10, 5, per la mattina, a vedere se... rimane sveglia. la partita delle donne. La partita delle donne, mai vista prima di allora, dalle nostre parti. Bologna-Fiorentina, portando al campo circa 3.500 persone, al vecchio Cino Sanchino. Poi, le lotterie, le feste da balla, le gare di briscola, e dopo lo stenico del 73-74, lo stenico astronomo. Già, uno stenico astronomo. Se la memoria non mi trattissimi e parlare dell'idea, subito tornino, poi agli altri. L'idea è piante e, detto fatto, l'aria crescente sul palco delle scuole del Vodanese. Da quel momento uscì la capacità organizzativa di Tronino. A me, sconosciuto, lui, e Maurizio Foglio, che fecero saltare fuori tutto lo corrente. Pani e tavole di legno, ce ne prestò, Cino ce ne volano. Poi, scendere, piante, vento, fornelli, e quant'altro, non so da dove fossero saltati fuori, ma c'è l'aria. ma rivendiamo insieme con le immagini quegli anni meravigliosi, indimenticabili. Così, cinquant'anni fa, si cominciò ad intravedere le imparcature della cucina, con gli immancabili Arnolo e Federico, ve li ricordate. Poi, abbiamo Tonino e Foscino, qui abbiamo la Maurizio che saluto, la moglie necessaria. Tonino e Foscino ci stendono i frigo portati da casa. Pensa, dov'è Franco, che ci sono eccelle frigorifere, freezer. noi ci caricamo dei frigo che avevamo in cantina o che staccamo dalle prese e li portamo lì all'osterno. e mentre c'è tecnologiche si sta riscettando ma lavoravo come un matto. Poi, tutti i giorni c'era la pubblicità su noi. Erano ah no, scusa, Martello, soltanto io. Il nostro tetto era un esterno. Carlo Pink guardava se ha risfatto il suo lavoro. Ero lì dalla mattina alla sede e dalla sede alla mattina a Carlo. Poi, tutti i giorni la pubblicità su noi. Giravamo con la mitica 500. Erano i nostri social di lavoro. Io ho Coscio e ho ricordato Coscio. Giravamo tutti i giorni. E adesso è il grande momento. Aspettiamo gli ultimi ciclini e partiamo. fuori c'è Arturo che c'era io c'era Olau che al ponte organizzava le donne per i top e i vini e Giorgio e a proposito di donne decidono ringraziare tutto il cuore le donne di allora e di adesso che hanno lavorato e lavorano lo stesso. Senza di loro poveri i bastietti sarebbero qua a fare una risco un 3-7. Grazie. inizia la scelata c'è la Rosa Maurizio Vittorio Tonino Franco a Mournemis così è meglio conosciuto. Già il giovane Franco Montonso mi so tanto il giovane Montalpato io credo molto nei proverbi e nei detti popolari ma c'è l'eccezione che conferma la vita uno dice tutti siamo utili nessuno dispensato nel nostro caso ci metterei anche Luigi il proverbo io vorrei dire tutti siamo utili ma Franco dispensato Franco Luigi noi vi diciamo solo grazie grazie Franco la cucina è già pronta c'è Franco la Rosa la Vittorina e Maurizio poi Maurizio assaggia ed ha l'ultimo ritocco al contenitore del pentolone il reparto bevande è pronto c'è Carlo Paganelli c'è Arnò c'è Vinicio c'è Mario svelato c'è l'alto e c'è l'alto e c'è la Virginia poi c'è la Oretta la Oretta dirigeva tutto il personale di posate e di messenze erano solo quindi non litigava con nessuno Cosi che prepara per la cultura i famosi galetti angolichesi, da cuocere i galetti in questa griglia rivoluzionaria. Grazie a tutti per quello che hai fatto per il tuo nome. Grazie. A questo punto però faccio un po' il programma, assieme a Toscia, che ci davano un cambio, c'era un certo Giancarlo Dalle Rani, meglio che noi conosciamo tutti per voce. Dov'è? Eccolo qua, Toscia. Ma Giancarlo Dalle Rani, ma quanti galetti angolichesi e quante borgogne hai incontro? Eh, non lo sai dire. E al campo la sera bisognava portare a casa i ragazzi. Quanti giri hai fatto col pulmino o con la macchina? Te li ricordi. Te non ricordi Gini, ma io ricordo sempre una tua frase, che la ripetevi costantemente. Ci trovavamo lì e te mi dicevi Ti va cacca a crescere. Ti va cacca a crescere. Te la ricordo questa frase che mi dicevi sempre? Grazie, 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 grazie a voi. Poi c'è Pietro Di Trolli che mi sostituisce la cassa. Sarebbe il suo lavoro, lavoravo in banca, ma lui vuole stare in cucina con Maurizio, ma tutto, Maurizio Borgogno. Poi c'è il palatore dell'orchestra e l'attesto da ballo. Pensate, c'era Lennone Protti all'ingresso per l'offerta libera. Allora c'era l'offerta libera e Pietro che girava a modo escluso intorno alla piste da Palla mentre c'è l'altro. Durante il giorno ci lavora e Pietro è in scena l'arte della cucina. Qui, però, è il momento più bello. Dopo il lavoro, tutti insieme a mangiare, riposare e raccontare le storie. Vediamo Merano, Otello, Giorgio, Suso, Arnaldo, Gname, Quinto Palassi, Ivano Alssolo, Cegno Gabriele, La Graciela Alfoni, Ivano Pugli, Mianchini, Arnaldo Sciacco, La Maurizio Necessario, Cegno Nascosta, La Loretta, La Presidenzissima. Con la bicicletta, là in fondo, la Gacallon Pugli. Alla fine, poi, degli anni Sottanta, entra nel Casomaro Puglielo, quindi all'Ostenma, Alfonso Cristoforo. Fu lui a portare in cucina la nostra storica romana, il discurso e privato piatto della vigilia di Natale, di tutti i casomaresi nel tempo che fu. Nella foto vediamo il Lumaga con la Rumigarò. Ve lo ricordate? La Rumigarò. Nessuno sa che cos'è la Rumigarò. La stampa inizia a parlare del nostro stelle e della Lumaca di Casomaro. In breve, la Lumaca di Casomaro è a livello nazionale. Nella foto che vediamo gli indimenticabili cip e ciò, Merano e Ibarma, che gestivano Ibarma. È un crescento continuo. Già allora, a lavorare, eravamo più di un centinaio. I giornali ci dedicano a pagina intera e il nostro stelle, che già da tempo abbiamo rinominato Sangra della Lumaca, è conosciuto dappertutto. Com'era la cucina all'inizio e come l'abbiamo ingrandita. Inizia il lavoro. Tutti concentrati. In prima fila vediamo Patrizia, Claudia, Loretta, Gianni Bellini, in arte Bocco, e alle loro spalle c'è la vita. I piatti sono pronti. Ci aspettano i camerieri. Sono impegnatissimi. C'è Luigi, Danimbano, Palmino, uno signorio di Figarano, uno con il più buono, e Riccardo Alfraresi, che è qui vicino alla Nore. Eccolo, in casa del Pionale. Ma Riccardo Alfraresi è venuto anche qui, quando ci ha trasferito qui, e dirigendo un po' la cucina. Ma prima la foto di rito, con Mario Stellato, abbiato tra le donne. Poi ci sono loro, la nostra forza, il nostro orgoglio. non mancava l'altro, non mancava l'anno. Contento e orgoglioso e soddisfatto, guardatelo. E c'era Stefano e Francesco, sempre alla Cripa. La Nibana, allo scaldo di Vande. Anche la pioggia non ci faceva più paura. Ma torniamo un attimo all'ora. Questo è il primo stand. Mi viene una bella nocca, guarda un'ora. Il primo stand è il sciacchio. Senza perdimenti e senza copertura. Ci sono altri. Sempre una favola, ma in realtà. Ci sono io e Carlo Appenica. E dal primo stand, ecco l'ultimo grande stand nel parco delle scuole del Madenese. Lo stand stracolmo. Pensate, era capienza a 300 persone. Una sera facevano mille coperti. Cose da fare. Dal primo tavolino usato per la cassa all'ultima scrivania di regia e controllo con il sottoscritto e Adriano, che non ci sfuggiva niente, Adriano. O quasi niente. Quasi niente. Poi, chi ha portato l'idea dell'armacca allo stendo, Alfonso Cristofrio, e chi tutte le sere ha di crespo soltanto agli ostri, erano le proche. C'era un'offerta libera. Un piatto dipinto a mano nel 91. Poi, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, sull'idea di Carlo Appenica, si spogliono sei concorsi denominati all'umato d'oro. Una targa del 91, sponsor sempre, ma dopo di Pinca, pensate, la giuria è una più nazionale, ma internazionale. C'è scritto lui. Cerchiamo il colore. Nella giuria e nella foto vediamo Bordi, Foncino, Necessario, e Carlo Comune. Poi ho perso i fogli, andiamo a recuperarlo. Matteo, aiuto. Poi, nel 97, ci trasferiamo qui al campo. Ci trasferiamo qui al campo con tendone e pavimento presi rigorosamente a noleggio, i posti da 300 diventano 600 e 300. Dal 2004, in questa splendida struttura fissa, opera del Comune. Da Sacri della Lovacca diventiamo Feste della Lovacca. Ma questa è storia recente. Quindi, prima di rivedere di rivedere i cieli come ci è evoluta la festa fino ai giorni d'oggi, mi rivolgo a te, mio caro, ecco, quanti cieli stai, che si sono stadi, così mi piace il marco, quanto mi ricordo, quante emozioni fai vivere, per oggi ti saluto, altrimenti la figlia che vi muovo e vi vede un vagone Ci vediamo per 50 anni. Io ci sarò, io ci sarò, ma tu, mica fai l'esterno, signora Corallo. Io ci sarò, io ci sarò, ma tu, mica fai l'esterno, signora Corallo. Io ci sarò, io ci sarò, ma tu, mica fai l'esterno, signora Corallo. Io ci sarò, ma tu, mica fai l'esterno, signora Corallo. Io ci sarò, ma tu, mica fai l'esterno, signora Corallo. 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 cosa mi potete. Vado a Casumaro, mi hanno detto che se ci andiamo ci faranno andare alla festa, se non ci sbrigiamo, lavoriamo con la festa di Milano. E allora, non volete dare una mossa? Sapete, mi hanno anche raccontato una bellissima storia di questa festa che fanno tutti gli anni a Casumaro. Ora ve la racconto, tanto di tempo che il viaggio non vi amo. Mamma, mamma, è molto lontano Casumaro. Mamma, mamma, è molto lontano. Mamma, mamma, è molto lontano. Mamma, mamma, è molto lontano. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. una sangra. a tutti. 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 adesso. a tutti. 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 tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. 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 a tutti.